Ha girato in lungo e largo la Toscana in bicicletta nel corso della recente campagna elettorale Mario Agnelli già candidato per la Liga al Senato. Il treno resta il mezzo più sostenibile per le esigenze di questo territorio. La futura collocazione della stazione di alta velocità è ancora un rebus. E sulla questione ecco l'opinione del Sindaco che sintetizza anche la posizione del Comune di Castiglionfiorentino. Noi siamo dell'avviso che questa sia una grande opportunità che deve essere colta. Questo prima di tutto. Abbiamo preso atto del progetto su Rigutino, sulla fattibilità e tra l'altro anche l'ubicazione più vicina anche al territorio di Castiglionfiorentino. Ma qui non partecipiamo alla lotta interna o fratricida tra amministrazioni o regioni. Noi siamo dell'avviso che questo progetto dovrebbe andare avanti. Non stiamo qui a indicare il punto esatto dove deve essere realizzato con gli ultras che fanno il tifo da una parte e dall'altra. Ma il senso di responsabilità deve portare e prevedere un po' tutte le amministrazioni a convergere su una soluzione sostenibile anche economicamente e in tempi rapidi. Questa è la posizione del Comune di Castiglionfiorentino che non è mai cambiata. Comune di Castiglionfiorentino